Vengo subito signora. Buongiorno, decida? Mi dà del pane in cassetto. Questo va bene? Sì, grazie. Te lo metto sul conto? Sì, grazie. Bisogna decidersi, andare da ognuno e cercare di convincere. Io vado da Pescantini e stasera telefono a Giuliani e Soffici. Tu sei amico di Amidei e... Figurati, quello ha più paura di me. La miglior cosa è vederci tutti domattina. Sì, facciamo da mattina. Va bene, d'accordo. Abbiamo fatto. Buongiorno. Se ci uniamo, ripuliamo il quartiere. No, no, io preferisco la lineatura. E allora la polizia che ci sta a fare? Presto, ha chiamato un'ambulanza! Correte, correte! Presto, fate presto! Sta sopparente!